Il ritorno. Il mare schiaffeggiava la costa con le sue onde brevi e monotone. Bianche nuvolette svolazzavano rapide nel vasto cielo azzurro, portate dal vento come uccelli. Il paese, nel fondo della valletta che va verso il mare, si stava scaldando al sole. Proprio in principio, isolata, c'è la casa dei Martin Levesque, sull'orlo della strada. È una caciupola di pescatori, coi muri d'argilla, il tetto di paglia impennacchiato di giaggioli turchini. Un orticello quadrato grande come un fazzoletto, nel quale crescono cipolle, cavoli, prezzemolo e sedano, si stende davanti all'uscio, contornato da una siepe dalla parte della strada. L'uomo è alla pesca. La donna, davanti alla caciupola, sta aggiustando le maglie di una gran rete bruna, tesa sul muro come un'immensa ragnatela. Una ragazzetta di 14 anni, seduta su una seggiola impagliata, appoggiata all'indietro, sul cancellino dell'orto, rammenta la biancheria, biancheria da povera gente, Lisa rattoppata. Un altro ragazzo, più giovane di lei di un anno, culla tra le braccia un bambinello, che ancora non si muove e ne parla. Altri due bambini, di due o tre anni ciascuno, stanno seduti impiastricciando con la terra e tirandosela sul viso. Nessuno parla. Il lattante, che il ragazzo cerca di addormentare, piange senza interruzione, con una vocina stridente. Un gatto dorme sul davanzale della finestra. Ai piedi del muro, delle violaciocche fiorite formano un bel cuscinetto di fiori bianchi attorniati di mosche ronzanti. A un tratto la fanciulletta, che sta cucendo vicino al cancello, chiama «Mamma!». La madre risponde «Che c'è? È tornato?». Sono preoccupate da quella mattina presto, perché c'è un uomo che gironzola intorno alla casa. Un uomo anziano, che sembra un mendicante. L'hanno visto mentre andavano ad accompagnare il padre alla barca. Stava seduto nel fosso, davanti al loro uscio, e quando sono tornate dalla spiaggia, era sempre lì a guardarla a casa. Pareva malaticcio e poverissimo. Per più di un'ora era rimasto immobile. Poi, accortosi che le donne lo guardavano come se fosse un ladro, si era allontanato strascicando una gamba. Ma dopo un po' l'avevano visto tornare, con cui la sua andatura lenta e stanca, e si era rimesso a sedere, stavolta un po' più lontano, come per spiarle. La madre e le ragazzine avevano paura. La madre, soprattutto, era inquieta. Già era timorosa di natura. E poi il suo uomo, Levesque, sarebbe tornato dalla pesca solamente a notte. Suo marito si chiamava Levesque. Lei, Martin. E allora li chiamavano Martin Levesque per questo motivo. Lei aveva sposato in prima nozio un marinaio di nome Martin, che andava tutte le estati a Terranova a pescare le aringhe. Dopo due anni di matrimonio aveva una bambina, ed era incinta di sei mesi quando il veliero di suo marito, le due sorelle, un tre alberi di dieppe, sparì. Non se ne ebbero più notizie. Nessuno dei marinai che vi erano imbarcati tornò. Fu dato per perso, equipaggio e carico. La Martin aspettò per dieci anni, allevando faticosamente i due figli. Poi, siccome era una brava donna, fu chiesta in sposa da un pescatore del paese, Levesque, vedovo con un figlio. Si sposarono e in tre anni lei ebbe altri due figlioli. Tiravano avanti laboriosamente e faticosamente. Nella loro casa il pane era tenuto di conto e la carne non si vedeva quasi mai. A volte d'inverno, durante il maltempo, pigliavano a debito dal fornaio. Ciò nonostante i bambini stavano bene. La gente diceva, sono brave persone i Martin Levesque. La Martin è una lavoratora e un altro pescatore bravo come Levesque non c'è. La ragazzina, seduta al cancelletto, disse, sembra che ci conosca. Forse è un povero di Apreville o di Ausebosk. Ma la madre non poteva sbagliarsi. No, no, non era uno della zona, certamente. Ora, siccome quello non si muoveva affatto e seguitava a fissare con ostinazione la casa, la Martin si arrabbiò e, fatta aulace dalla paura, prese una palla e uscì sulla strada. Che fate, Costi? gridò il vagabondo. Piglio al fresco, rispose lui con voce rocca. Vi do annoia. La donna disse, perché stavate davanti a casa mia? A spiare? L'uomo replicò, non faccio male a nessuno. Non si può stare seduti per la strada? Non sapendo che rispondere, la donna tornò a casa. La giornata passò lentamente. Verso mezzogiorno l'uomo se ne andò. Alle cinque si rifece vedere, poi sparì di nuovo. Quando tornò Levesque, a notte fonda, si raccontarono tutto. Sarà un ficanaso o un invidioso? E se ne andò tranquillamente a letto, mentre la sua compagna pensava sempre a quel vagabondo che l'aveva guardata in modo così strano. Il giorno dopo tirava un gran vento e il marinaio, visto che non sarebbe potuto andare a pesca, aiutò sua moglie ad accomodare le reti. Verso le nove la figliola più grande, una Marty, che era andata a comprare pane, tornò a casa di corsa, spaventata, gridando, mamma, è tornata un'altra volta. La madre si sentì rimescolare e pallidissima disse al suo uomo. Vagli a dire qualcosa a te, Levesque, che se ne vada, che la smetta di spiarsi a questo modo, perché mi sento tutta agitata. Levesque, un pescatore alto dal viso color mattone, la barba rossa e folta, gli occhi azzurri bucati da un puntino nero, il collo robusto sempre coperto di lana per ripararsi dal vento e dalla pioggia in alto mare, uscì tranquillamente e si accostò al vagabondo. Cominciarono a parlare. La madre e i figli li guardavano di lontano, ansiosi, palpitanti. A un tratto lo sconosciuto salzò. Insieme a Levesque si diresse verso la casa. La Marty, spaventata, indietreggiava. Suo marito le disse, dagli un pezzetto di pane e un bicchiere di sidro e digiuno dagli all'altro. Entrarono in casa tutti e due, seguiti dalla madre e dai figli. Il vagabondo si mise a sedere e cominciò a mangiare a capochino sotto gli sguardi di tutti. La madre in piedi lo sbrutava. Le due figliuole più grandi, una portava il piccino, stavano addossate all'uscio fissandola avidamente e i due bambini, seduti in mezzo alla cenere del camino, non giocavano più col paiolo affumicato per guardare anche loro l'estraneo. Levesque si sedette e gli chiese, venite da lontano, da Cet. A piedi? Sì, a piedi, quando uno non ha soldi. E dove state andando? Qui. Conoscete qualcuno? Certo. Tacquero. Benché avesse fame, l'estraneo mangiava lentamente e dopo ogni boccone di pane beveva un sorso di sidro. Aveva un viso macilento, pieno di grinze scavato e l'aspetto di chi ha molto sofferto. Levesque chiese ad un tratto. Come vi chiamate? L'uomo rispose senza nemmeno levar gli occhi. Mi chiamo Martin. La madre si sentì scorrere per le ossa uno strano brivido. Fece un passo avanti come per guardare il vagabondo più da vicino e restò impalata di fronte a lui, con la bocca aperta e le braccia a penzoloni. Stavano tutti zitti. Finalmente Levesque disse. Siete da queste parti? Rispose. Son di qui. Alza il capo. Il suo sguardo si incontrò con quello della donna e restarono inchiodati, fissi, come se si fossero fusi in uno. A un tratto lei disse, con voce mutata, bassa e tremante. Sei te, mio marito? Lui rispose lentamente. Sì, sono io. Non si mosse e seguitò a masticare. Poi, più sorpreso che commosso Levesque balbettò. Sei proprio te, Martin. L'altro rispose con semplicità. Sì, sono io. Il secondo marito chiese. E di dove vieni? Dalla costa dell'Africa, rispose Martin. Si era andati addosso ad un banco e ci siamo salvati in tre. Picard, Batinel e io. E poi ci avevano preso i selvaggi. E ci hanno tenuti dodici anni. Picard e Batinel sono morti. A me mi ha preso un esploratore inglese e mi ha riportato a set. Ed eccomi qui. Da Martin cominciò a piangere, col viso nascosto nel grembiule. E ora? Che si fa? Disse Levesque. Martin chiese. Sei te il suo marito? Levesque rispose. Sì, sono io. Si guardarono in silenzio. Martin guardò i ragazzi che gli stavano intorno. Indicò le due femmine con un cenno del capo. Sono le mie? Levesque rispose. Sì, sono le tue. Non si alzò. Non le baciò. Disse. Mamma mia! Come sono cresciute! Che si fa? ripete Levesque. Martin era sopra pensiero. Non lo sapeva nemmeno lui. Poi si decise. Farò come ti pare. Non ti voglio far torti. Certo, fa dispiacere, dato che stai in casa. Io ho due figliuoli. Tu tre. Ognuno si piglia i suoi. La madre è tua? È mia? Farò come vorrai decidere. Ma la casa è mia, perché me l'ha lasciata mio padre. E ci sono nato. E ci sono anche le carte dal notaio. La Martin si guidava a piangere tra piccoli singhiozzi soffocati nella tela turchina del grembiule. Le due figlie grandi si erano avvicinate e guardavano timorose il loro padre. Questi aveva finito di mangiare. Disse. Allora, che si fa? Levesque ebbe un'idea. Andiamo dal parruco. Deciderà lui. Martin si alzò. Andò verso la moglie e costaigli si gettò addosso, singhiozzando. Marito mio, sei tornato! Sei tornato, povero marito mio! Lo abbracciava, in preda ai ricordi del passato, come una ventata di ricordi che la riportavano ai vent'anni, ai primi abbracci. Martin era commosso anche lui e le baciava la cuffia. Sentendo piangere la madre, anche i due bambini accanto al camino cominciarono a urlare tutti e due insieme e il marmocchietto che stava tra le braccia della seconda femmina strillò con una vocetta acuta come un piffero stonato. Levesque, dritto, aspettava. Via, disse. Andiamo a sistemare questa faccenda. Martin si sciolse dall'abbraccio. Guardava le sue figuole e allora la madre disse. Dategli almeno un bacio a vostro padre. Le ragazzine si avvicinarono tutte e due insieme, con l'occhio asciutto, stupite e un po' timorose. Martin le baciò sulle gote, una dopo l'altra, con un bacione sonoro alla rustica. Il piccino, trovandosi vicino a quel viso sconosciuto, si mise a urlare in modo tale che quasi gli venivano le convulsioni. Poi i due uomini uscirono insieme. Mentre passavano davanti al caffè del commercio, Levesque chiese «Si piglia un goccino?» «Certo», assenti Martin. Entrarono e si misero seduti. Il locale era ancora vuoto, Levesque gridò. «Oè, sicò, due di quella buona. È tornato Martin. Te lo ricordi, Martin, quello della mia moglie. Hai capito, quello delle due sorelle, che si era perso in mare». L'oste, panciuto, sanguigno, gonfio di grasso, si avvicinò, con tre bicchieri in una mano e una boccia nell'altra. Le chiese tranquillo «Sicché sei tornato, eh, Martin?» Martin rispose «Eccomi qui». итina.